Siamo qui con il direttore sportivo del Real Forio Vito Manna, un mercato che ha rianimato tutta la popolazione di Forio, tutti gli appassionati del Real Forio, un mercato che ha dato nuovi innesti e ha alzato nettamente il tasso tecnico e di qualità anche da parte del Real Forio. Sì, noi quest'anno abbiamo avuto in carico dalla società di alzare un po' l'asticella, quindi per cercare di fare un campionato diverso e un campionato che possa proiettarci dall'altra parte della classifica, come si suol dire. Quindi abbiamo lavorato per creare il giusto mix tra calciatori di esperienza, calciatori a livello tecnico più alto e calciatori giovani, per cercare di creare la giusta amalgama per raggiungere un obiettivo diverso quest'anno. Quindi non la solita lotta per la salvezza che è stata la caratteristica degli ultimi anni. Quindi siamo andati a prendere calciatori come Arrulo, come Tomasin, come Musso, come Di Costanzo in avanti, come Cabrera e Bussatà in difesa, che sono andati ad arricchire il parco giocatori che in buona sostanza è stato confermato quello dell'anno scorso. Quindi insieme a loro ci saranno sicuramente i giovani provenienti dal nostro settore giovanile, quali Di Meglio, Aiello, Castagna, Peluso e quindi Musella che viene dall'Ischia come 2005, insieme agli andoli che saranno i due portieri under, crediamo di aver creato una squadra che possa divertirsi quest'anno e riaccendere, come hai detto tu, l'entusiasmo tra i tifosi del Forio, che è l'obiettivo principale. Quindi riaccendere l'entusiasmo, riportare la gente a Salvatore Calise, divertire e divertirci. Grazie.